Cosa sta succedendo a livello di decisioni pro e contro il vaccino tra cosiddetti no-vax e pro-vax? Persone che comunque hanno sempre somministrato i vaccini, soprattutto quella tripla, non il vaccino obbligatorio a loro figli, in questo caso in vari culti si sta verificando una notevole spaccatura. A fronte di indicazioni abbastanza chiare, ad esempio nei mormoni, mi risulta che il profeta, il capo, diciamo così, supremo dell'organizzazione, abbia proprio fatto dichiarazione, indicazione molto netta, vaccinatevi, vaccinatevi, non ci sono storie, dovete vaccinarvi. Nel caso della società Torre di Guardia, ad esempio, questa insistenza, questa pubblicità, come viene detto, nei confronti della necessità di vaccinarsi, viene vista con fastidio da una vasta parte di testimoni di Geova, ad esempio mi riferivano, abbiamo i nostri contatti, e in America Latina c'è un grossissimo problema, hanno dovuto chiamare degli anziani a redarguire altri anziani, perché una parte molto importante, numericamente parlando, di testimoni di Geova, dice ma insomma tutto sto insistere sul vaccino, poi a un certo punto io posso anche decidere di non farlo, o bisogna proprio a un certo punto poi farci come dico io. Questo sta costituendo un grosso problema, nei mormoni veramente una grossa spaccatura, è un grossissimo problema. Nei cattolici pure, ma sapete qui si tratta del rapporto che si ha con i propri pastori, nel senso che le indicazioni della Chiesa, a che Chiesa ne dica, hanno poi un'incidenza veramente relativa, anche nei confronti a volte dei fedeli, c'è meno cogenza, meno impatto dal punto di vista proprio della realtà, perché sono un ministro e so benissimo che insomma, sì, la Chiesa dà delle indicazioni, ma poi i fedeli insomma veramente fanno, si sentono meno vincolati, ecco, se posso esprimermi così, si sentono ormai sempre meno vincolati, a parte quelli che ogni cosa che dice il Papa magari subito si sentono in dovere di attuarla, ma non è così tra i cattolici, è una realtà molto frastagliata e sicuramente diversa rispetto al passato. Nei testi che diceva, io che ho letto delle, non dovrei dirvelo forse, ma ve lo dico, a delle chat, ho possibilità perché abbiamo i cosiddetti appunto PIMO, persone che sono all'interno, ma si pongono appunto tante domande e sta diventando un problema abbastanza importante questo qui all'interno della società dove di guardia. Cioè la società dice vaccinatevi perché comunque questo, in America ho letto una circolare, non so se è stata già tradotta in Italia, dove c'è proprio l'invito proprio al vaccino senza se e senza ma, ma questo non viene recepito appunto in maniera uniforme per niente tra i testimoni di Geova. E quindi forse per la prima volta, ecco, si può parlare a livello diciamo proprio generale, mondiale, di una divisione di malcontento, ecco, serpeggia molto malcontento tra i fedeli tutti i testimoni di Geova, questo ve lo posso proprio garantire, così, lo diciamo come notizia, come facciamo tante riflessioni, a volte giuste, a volte sbagliamo, non parlo a prurare maiestati secondo il Papa, dico così perché siamo diversi a fare informazione, riferisco a questo, però questo ve lo posso proprio confermare che è così, è un fenomeno, un fenomeno interessante che forse non ci si aspettava, questa spaccatura, ecco. Buona domenica, grazie.